mi ha chiamato mia figlia da roma hanno chiamato mio figlio e hanno chiamato la figlia a polvrimont era l'altra parigi, hanno chiamato loro e poi hanno chiamato mio figlio lei come sta? come si sente? io mi sento abbastanza bene adesso, una giornata bella non vede l'ora di abbracciare? non vede l'ora di vederlo perché lui abitava abbastanza qua con me poi eravamo in Francia da figli l'Unità di Borgo è stata eccezionale specialmente il sindaco devo dirlo che è stata una persona eccezionale ma poi sono stati tutti bravi vicini di casa tutti, tutti devo ringraziare tutti, tutti